Che cosa è quella cosa che chiamiamo vita, che ci sembra di conoscere così bene perché respiriamo, mangiamo, ma noi non siamo il respiro o l'appetito? Alcuni hanno cercato di spiegarlo con delle grandi teorie. Io lo faccio in un modo più semplice. Ti parlo di una scatola e di una formica. E non abbiamo nemmeno bisogno di prendere una scatola e una formica. Ci basta immaginarlo. Noi siamo esseri umani e quindi con il pensiero possiamo anche immaginare delle cose che non esistono e da quei pensieri, da quell'immaginazione possiamo trarre delle indicazioni molto importanti. Allora, immagina che prendi una scatola e prendi una formica. Metti la formica nella scatola e chiudi la scatola. È tutta un'immaginazione. non devi far male nemmeno a una formica. Che cosa penserà la formica dentro la scatola? Difficile saperlo. Forse la formica dentro la scatola pensa che tutto l'universo sia quella scatola. Oppure, forse quella formica immagina che l'universo sia oltre quella scatola. Noi non possiamo saperlo. È un'immaginazione nostra immaginare che cosa fa quell'ipotetica formica nella scatola. Alcuni di noi considerano la vita materiale come la scatola che li contiene. Per loro il corpo è tutto. È evidente. È la misura delle cose che percepiscono. Il loro mondo è grande tanto quanto ciò che il loro corpo sperimenta. Il corpo è la misura per molte persone. Molte persone dicono, se non lo vedo, se non lo tocco, io non ci credo. Altri, invece, immaginano che la vita sia oltre il corpo. Hanno intuizioni, si ispirano e, curiosamente, traggono spunti vitali, idee e motivazione, proprio dalla vita che immaginano oltre ciò che il corpo percepisce. Quindi è tutto un discorso di immaginazione, di autosuggestione se vuoi. Ed è molto curioso che l'autosuggestione produce spunti vitali che consentono di vivere meglio con il corpo. E quindi, andando al di là di ciò che il corpo percepisce, andando al di là in un gioco di fantasia, possiamo inventare degli spunti che poi portiamo di qua. Portiamo dalla parte dove c'è il corpo, portiamo la fantasia nel nostro mondo materiale e viviamo meglio nel mondo materiale. Tutto questo è molto curioso. Con la mente creiamo una realtà migliore. Ognuno di noi può scegliere che cosa percepire e che cosa credere. La scatola, il corpo, la formica, il pensiero oppure l'immaginazione. Abbiamo totale libertà. Possiamo credere di essere un corpo. Possiamo credere di essere una mente che pensa. Possiamo sapere di essere uno spirito che immagina. Se tu procedi in modo pragmatico, come la nostra ipotetica formica che esplora la scatola, e al tempo stesso, se tu procedi in modo fantasioso, come la formica che immagina la vita oltre la scatola, tu allora vivi in modo entusiasmante la tua esperienza di essere umano momentaneamente presente sulla Terra. È una tua scelta, ma se tu riesci a combinare sia il pragmatismo in modo che sulla Terra ottieni dei risultati misurabili, e l'immaginazione in modo che tu possa andare al di là dei risultati misurabili, allora tu vivi in modo entusiasmante la tua esperienza di essere umano che al momento si sta occupando di un corpo fisico che è presente sulla Terra, o così almeno ci sembra. Grazie.